. Tapiro per Francesco Monte, ecco cosa farò quando usciranno Cecilia e Ignazio. Tapiro distriscia la notizia a Francesco Monti per la storia tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Il triangolo amoroso tra Cecilia Rodriguez, Ignazio Moser e Francesco Monte non è passato inosservato agli autori di Striscia la notizia. Che hanno subito provveduto a consegnare un tapiro d'oro all'extronista di Uomini e Donne. Il pugliese ha dovuto assistere inerme alla nascita della storia d'amore tra la sorella di Belen e il ciclista Trentino al grande fratello Vip. . A Valerio Staffelli Francesco ha spiegato di non essere assolutamente intenzionato a perdonare l'Argentina. . Ma sicuramente avrà un ultimo confronto con la ragazza dopo quello avuto in diretta tv davanti a oltre 5 milioni di persone. L'inviato di Striscia, senza troppi peli sulla lingua, ha chiesto, cosa succederà a Ignazio Moser e a Cecilia Rodriguez quando usciranno?. . E Monte ha così risposto, non succederà niente, bisogna mantenere un determinato aplomb. C'è poco da perdonare in base a quello che ho visto. . Mi toglierò un bel groppo dallo stomaco quando la incontrerò. . . . .